Tre punti d'oro in casa della capolista. Tre come i punti di distacco della Feralpi Salò dal primo posto in classifica. La marcia della formazione Gardesani in campionato si illumina una volta di più con l'ennesima grande impresa. I ragazzi di Aimodiana riescono nell'opera di frenare la corsa della capolista cittadella battendo i veneti tra le proprie muramiche con il punteggio di 2-0. Romero e Bracaletti fanno tombola al tombolato costringendo l'undici di Roberto Venturato la prima sconfitta in stagione davanti al proprio pubblico. Un successo di abilità, tattica, tecnica e cinismo. Una vittoria frutto del lavoro di Aimodiana con un gruppo in grado di stupire nonostante le assenze pesanti di Pinardi e Maracchi. Con un ritrovato a Leonarduzzi ed un caglione in formato super con tre prodezze degne di un estremo difensore della massima serie i verde e blu espugnano il campo del cittadella rilanciando le proprie ambizioni in chiave promozione annullando il passo falso casalingo di una settimana fa con il Cuneo. Dopo un primo tempo di sostanziale equilibrio la gara si sbloccava nella ripresa, correva l'undicesimo del secondo tempo quando Romero concludeva in rete una perfetta azione manovrata tra Bracaletti e Tortori con quest'ultimo a rifinire per il bomber al suo settimo centro stagionale. Sette come i gol anche di un Andrea Bracaletti in stato di grazia, l'uomo in più in questo finale d'anno per la Feral Pissalò siglava al ventiquattresimo della ripresa il gol del definitivo 2-0. Anche in questa occasione a rifinire delicatamente per il compagno era un sontuoso Loris Tortori poi cacciato dal campo con un rosso diretto che gridava vendetta per uno scontro di gioco avuto con salvi. In 10 contro 11 la Feral Pissalò riusciva nell'impresa di difendere il doppio vantaggio dagli assalti del Cittadella potendo sprigionare così a fine gara l'urlio di gioia dei momenti migliori per un'impresa che sa di storia e leggenda.